Parte l'avventura della Juniores dell'Ovidiana Sulmona che si appresta a partecipare al prossimo campionato regionale d'elite. La squadra è stata affidata al tecnico Gino Bianchi che dopo i trascorsi recenti nel settore giovanile dell'Olimpia Cedas ha accettato di buon grado la proposta di allenare la Juniores per proseguire nel lavoro incentrato alla crescita dei giovani. Sarà mio compito fare in modo che questo progetto io lo possa sviluppare al meglio. La squadra ha cominciato la preparazione allo stadio Pallozzi per proseguire al campo di bagnaturo. C'è una squadra innanzitutto composta dalle riconferme, in più ci sono dei ragazzi usciti dall'Olimpia Cedas classe 2001 e in più ci si aggiungeranno anche ragazzi di alcune realtà, insomma limitrofe. Spiccano le conferme di Parao, gioca Presutti, De Benedictis, Camilli, Balassone, Meo, Petrella, Di Pardo e Marchionda. Dall'Olimpia Cedas sono arrivati 2001, De Vincentis, Verrocchi, Del Prete, Almonte e Carusi. Tra i volti nuovi ci sono anche Arquilla e Bonanno rispettivamente classe 2000-2001. L'organico riteniamo che sia valido, però il nostro obiettivo non deve essere quello di ottenere dei risultati a cui sicuramente miriamo, ma il nostro obiettivo è quello di preparare i ragazzi per potersi integrare quanto prima con la prima squadra. Quindi i ragazzi pronti verranno subito inseriti in prima squadra. La società è convinta che il lavoro porterà frutti positivi con la sinergia tra Juniors e prima squadra. In questa ottica è stata compiuta la scelta dell'allenatore. La scelta giusta anche perché il mister della prima squadra è Joachim Spina, quindi loro sono due mister che hanno lavorato spesso insieme e che puntano a una collaborazione forte per far sì che Juniors e prima squadra siano un gruppo unico. La Juniors sulmonese ripartirà dall'esperienza maturata nella scorsa stagione con la salvezza ottenuta grazie al nono posto e ai 31 punti totalizzati. Quest'anno dobbiamo alzare la sticella. L'Ovidiana sulmona è stata inserita nel girone A del campionato d'elite insieme ad importanti realtà abruzzesi. Il campionato l'ho seguito l'anno scorso in alcune occasioni. Ho visto che il livello è abbastanza alto soprattutto perché le squadre il lunedì riescono a far scendere diversi giocatori che militano già in prima squadra. Ma io sono convinto che con questo gruppo, siccome so che lavoreremo bene, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni.